tanti tanti auguri ad avviso pubblico abbiamo lavorato insieme tantissimo in questi anni sappiamo quanto preziosa sia l'attività di avviso pubblico oggi dopo la pandemia più che mai la criminalità organizzata si riorganizzerà ed approfitterà di questa terribile disastro che è accaduto al nostro paese tanti tanti auguri e cento e cento di questi giorni